E' anche un contagio durante la prima ondata dell'epidemia, mentre oggi c'è un positivo in ogni casa. Il caso di Volturino, piccolo borgo del Foggiano, l'inviato Lorenzo Santorelli. I monti della Daunia avevano protetto i suoi borghi dal Covid, come Volturino arroccato a 735 metri nel subappennino, dove la Puglia sfuma nel Molise e nella Campania. Andrà tutto bene! Adesso in questa piccola comunità, praticamente ogni famiglia ha un contagiato in casa. Sto meglio, non sappiamo com'è entrato questo maledetto virus. La situazione più dedicata è in questa RSA, dove 25 tra operatori e pazienti sono risultati positivi e ieri due sono morti. Com'è la situazione? E' difficile. Ok, salve. Già un centinaio i positivi accertati su 1500 abitanti. Il timore è che il virus circoli più di quanto dicano i numeri. Abbiamo chiuso il mercato settimanale, abbiamo chiuso il mercato degli ambulanti, abbiamo chiuso adesso le scuole. Non tanto per la scuola, faccio il professore. Noi li facevamo entrare uno alla volta. I pulmoni sono sempre quelli, due o uno addirittura, e lì c'era assembramento. A Lucera il pronto soccorso più vicino è stato chiuso dopo i primi casi. Per le emergenze bisogna percorrere 40 km e andare fino a Foggia. C'è mio fratello che è stato un mese che sta ancora a letto, mia cognata e anche lei ha avuto il virus. No, io, mia moglie, i miei figli, tutto apposta. Ancora niente, grazie a Dio. La domenica di Napoli tra lungo mare e deserto.